Quali sono i diversi sintomi di dentizione? Nella maggior parte dei casi, i bambini iniziano a masticare intorno all'età di 6 mesi. Alcuni iniziano prima, circa 3 mesi, e alcuni aspettano fino a circa 12 mesi. I sintomi di dentizione includono irritabilità, sbavando il desiderio di masticare oggetti. Altri sintomi di dentizione includono interruzione del sonno e rifiuto di mangiare. Spesso un sintomo rivelatore di dentizione è un bambino esigente. Se un bambino è molto irritabile o non dorme a causa della dentizione, un antidolorifico progettato per i bambini può aiutare a calmarlo, poiché aiuta a calmare le sue gengive infiammate. Un genitore dovrebbe dare un bambino con paracetamolo o ibuprofene solo dopo essersi consultato con il medico del bambino e deve dare al bambino solo la dose indicata sulla confezione. L'aspirina non è adatta per i bambini, in quanto può causare una grave malattia nota come sindrome di Rai. Altri sintomi di dentizione includono sbavando. La bava può causare un'eruzione sul viso di un bambino se non viene ripulita. Il genitore dovrebbe pulire la bava con un panno per pulire spesso per evitare che irriti la pelle del bambino. L'applicazione di vaselina può aiutare a proteggere la pelle dalla sbavatura. Durante la dentizione, le gengive di un bambino appariranno gonfie, il che porta ad altri sintomi di dentizione, compreso il rifiuto di mangiare o masticare oggetti. Un bambino può mettere le sue dita o i suoi giocattoli nella sua bocca per affrontare il dolore. Dal momento che le dita o i giocattoli di un bambino possono avere batteri su di loro, un genitore dovrebbe dare al bambino qualcosa come un asciugamano pulito o un anello da dentizione in gomma da masticare. I giocattoli di dentizione pieni di liquido dovrebbero essere evitati perché potrebbero scoppiare se il bambino li morde troppo forte. Raffreddare prima l'anello da dentizione o il panno per il viso può inoltre aiutare ad alleviare il dolore. Un frutto freddo e duro, come una mela, può anche aiutare ad alleviare il dolore del bambino. L'anello da dentizione o il panno devono sempre essere lavati dopo l'uso e prima che venga dato nuovamente al bambino. Un genitore può anche provare a pulire le gengive del bambino con un dito, dopo che i denti hanno iniziato a comparire, usando un panno umido e freddo per lenire il dolore e ridurre il gonfiore. Gli antidolorifici topici progettati per la dentizione possono anche aiutare a ridurre i sintomi della dentizione, ma un genitore deve fare attenzione a non usarli troppo spesso o in una dose troppo alta. L'abuso di un antidolorifico topico può intorpidire la gola del bambino. Prima di usare un gel topico sulle gengive di un bambino, un genitore dovrebbe parlare con il suo medico per assicurarsi che sia sicuro farlo.